Ciao a tutti, benvenuti qui su questo nuovo video della mia carriera su F1 2020, siamo qui pronti per il gran finale della stagione di Formula 2, l'ultimissimo round. Gara 2 ad Abu Dhabi, quella che vedete in sovraimpressione è la griglia di partenza, basata chiaramente sull'ordine di arrivo di gara 1 con i primi 8 invertiti, quindi io essendo arrivato settimo in gara 1 parto secondo qui in gara 2. Purtroppo non è visualizzabile la classifica di campionato, questo è un problemino, non da poco, perché è un gioco di corse che non ti fa vedere la classifica di campionato prima dell'ultima gara, cioè non me la fa vedere né qui nel pre-gara a sessione già caricata, vedete non c'è classifica di campionato, non c'è, ma neanche dal menu principale prima di caricare la sessione, in Formula 1 si te lo fa vedere nel menu principale, nel menu, cioè te la fa vedere la classifica, però nella Formula 2 che non c'è tutto quel menu dove sei sulla tua scrivania col portatile, che leggi le mail, tutte queste cose qua, che navighi nei minuti, in Formula 2 non hai la possibilità di vedere la classifica prima della gara. Io so che sono in lotta per il secondo posto in campionato con Carlo Milot, che mi è davanti di 3 punti, se non ricordo male, e partiamo proprio primo e secondo, partiamo con Milot primo e io secondo, quindi sarà proprio un testa a testa diretto per il secondo posto in campionato, adesso non mi ricordo esattamente quanti punti di distacco hanno i vari King, Boccolacci eccetera, ma se non ricordo male dovrebbero essere abbastanza indietro, forse King non mi ricordo, onestamente non mi ricordo, so solo che sono in lotta con Milot e forse anche con King, ma ora come ora non saprei i distacchi precisi, comunque la cosa importante è che, vedete, hanno tutti scelto di partire con la gomma soft, super soft, che in realtà, a dispetto del nome, è la più dura, quindi qui in gara 2 non ci dovrebbe essere il solito bug delle strategie idiote della IA, perché partono tutti con la gomma dura e quindi in teoria non ci dovrebbe essere nessuno che farà un pit stop inutilmente, ecco, speriamo che sia così. Molto bene quindi, tutto pronto per la partenza di questa gara 2, l'ultima partenza, l'ultima fatica, qui in Formula 2 e ancora, niente, neanche l'ultima partenza sono riuscito a farla decentemente, vengo già superato da parecchi piloti, la cosa più importante qui è star calmi e non commettere il minimo errore, qui chiaramente ho lo stesso assetto, ovviamente, che avevo in gara 1, quindi un assetto estremamente carico, che mi dà molta velocità in curva, ma mi fa essere praticamente fermo, un completo fermo nei rettilinei, quindi sarà molto difficile per me fare dei sorpassi, intanto mi è sembrato di vedere dagli specchietti che Uber si è intraversato, eccolo lì Uber che si è intraversato, si è intraversato ma senza perdere posizione, ha soltanto perso quel tanto che basta per impedirgli di attaccarmi lungo il rettilineo successivo, che fortuna. E sono stato quindi fortunato, sono stato quindi fortunato, perché Uber si è intraversato e quindi non mi ha attaccato lungo questo rettilineo, adesso sono in quinta posizione, però sarà, comunque con questo assetto, sarà molto difficile, molto difficile sperare di fare 4 sorpassi e andare a vincere la gara, anche perché adesso arriva Uber che nel primo rettilineo non mi ha attaccato, nel secondo invece lo fa, vediamo se riesco a resistere qua in staccata, molto bene, adesso da qui in poi tutto il terzo settore dovrebbe essere a mio favore, chiaramente con il setup carico che ho, setup carico che mi ha dato una grande mano in qualifica, perché mi sono qualificato quinto anziché ultimo, come succedeva sempre, però in gara, in gara 1, mi ha creato qualche problema di sorpasso in rettilineo, perché gli avversari mi superavano facilmente, premevano il bottone di RS e mi passavano come niente, e io invece per fare i sorpassi dovevo inventarmi delle robe rischiosissime in curva. Attenzione, mamma mia, come l'ho salvata? Come l'ho salvata? Perché questo è un arcade, questo, in un gioco di guida simulativo, una roba del genere, mai poi mai nella vita la risci a tenere, ne so qualcosa, avendo giocato per anni a livello competitivo su assetto corsa. Comunque sia, purtroppo se ne sta scappando via Callum Iloth, io sto a poco a poco guadagnando sui piloti davanti, adesso ho anche preso il DRS, il problema è che Iloth davanti se ne sta scappando via, è un problema non da poco, visto che è proprio lui il pilota che mi interessa di più. Ho raggiunto Juan Manuel Correa, vediamo se riesco ad attaccarlo, qui in questa chicane è l'unico punto dove posso effettuare sorpassi con questo setup, e il problema è che poi subito dopo c'è il rettilineo, ci sono due rettilineo in un chilometrico, e quindi perderò sicuramente, riperderò subito la posizione dei danni del pilota che ho appena superato. Vediamo un po', si si guardatemi, due decimi, un decimo, proteggo l'interno, lui prende l'esterno, mi supera ancora prima della staccata, però forse posso controbattere qui con Correa, che non si fa, si sposta in fase di frenata, Juan Manuel Correa io lo ripasso, e vediamo un po' adesso, 480.000, 7 decimi, cosa fa? Gli avrò sporcato di molto l'accelerazione, perché ha perso tantissimo in uscita, e quindi non riesce ad attaccarmi, non arriva ad attaccarmi, perfetto, quindi sorpasso ufficialmente completato ai danni di Correa, sono adesso quindi in quarta posizione. Ho preso anche Latifi, ho preso subito, come niente fosse, e al prossimo giro spero di fare il sorpasso sul canadese, un sorpasso magari nello stesso punto in cui ho superato Correa, che adesso è già abbondantemente dietro, ha un secondo e due, mentre dietro Juber è a 4 secondi e 8, dietro veramente stiamo facendo il vuoto, a tutti gli effetti, e io secondo me avrei il passo per essere anche il più veloce in pista, con questo setup qui, nonostante il tempo che perdo nei rettilinei, anche perché poi adesso se c'ho il DRS, a maggior ragione, di tempo nei rettilinei ne perdo un po' di meno, ma in curva sono mostruosamente più veloce degli altri in curva. Cos'è? Ma chi è questo? Ma chi è questo? Dove è finito Alex? Ma questo è inglese! Ma questo è inglese, mi hanno cambiato ingegnere! Ma com'è possibile? Mi hanno messo un ingegnere inglese senza molti... Ah, forse perché ho installato la patch nuova, che mi sa che fra le cose che cambiava sta patch c'era anche la possibilità di scegliere la lingua dell'ingegnere, cosa che mi sembrava ci fosse già, o non ricordo bene, comunque sia evidentemente dopo la patch si è auto-selezionato l'ingegnere inglese, così a caso, senza che il team mi abbia detto niente. Niente, quindi abbiamo l'ingegnere inglese che credo non si chiami neanche Alex, credo si chiami tipo Jeff. Ok, sono vicino, sono vicino, sono vicino che ha Nicola Latifi, devo cercare di rompere un po' gli indugi, se voglio guadagnare posizioni, invece non sono abbastanza vicino, ancora una volta, per cercare il sorpasso, solo che qui davanti vanno un po' lenti, qui davanti, vediamo se c'è la possibilità qui di attaccare Latifi, al tornante, dire proprio di no, però stanno andando veramente piano, stanno andando veramente piano, Hiloth lì davanti fra un po' ci doppia, tipo, fra un po' ci arriva a doppiare, e stanno andando così piano, questi qua davanti, che Correa mi ha raggiunto, adesso a 4 decimi, rischio di subire di nuovo il sorpasso da Correa, perché questi due qua davanti sono, non so cosa cavolo stanno facendo, ma stanno andando veramente piano, però c'è il solito problema, io non riesco a passarli, sempre quel problemino lì, guardate qua, Nicolà Latifi, quanto va piano, dove lo vado ad attaccare addirittura, qui ci sono dei fossi, ci sono, sì, sorpasso illecito, illegal manoeuvre, vabbè, l'ho fatto passare, è bastato che, fargli letteralmente mettere il muso, davanti alla mia macchina, per un minuto, per un istante, e già il sorpasso illecito è svanito, intanto qui c'è Deletra, che ha avuto un sovrasterzo evidentissimo, in uscita dal tornante, e si è esposto a un mio possibile attacco, chiaramente con il carico, che attenzione, c'è qui di Latifi, tampona Deletra, e, e spuntà fuori, ero in not, cioè adesso, in qualche modo, c'è davanti Latifi adesso, rivediamo qui Nicolà Latifi, va a colpire in pieno Deletra, e poi, ma che inquadratura è questa? Ma che inquadratura è questa? Allora, seguiamo Deletra, vediamo se l'inquadratura di Deletra, ci fa capire qualcosa, oh, questa sì, ah, ok, ok, Deletra ha proprio avuto un coccolone, ecco qui l'onboard camera di Deletra, che dopo il tamponamento subito, ha avuto una, una crisi mistica, vabbè, poi anch'io qui, chiaramente l'ho allargato in uscita, e quindi adesso sono terzo, con Latifi secondo, invece di Deletra, ma Hilot a 16 secondi, di vantaggio, come è possibile? 16 secondi di vantaggio, in 8 giorni, ha guadagnato, 2 secondi al giro guadagnato, mamma mia, ok che si vedeva che Latifi e Deletra erano lentissimi, ma 2 secondi al giro, incredibile, e non lo riprendo più, come cavolo, devo recuperare adesso 16 secondi di distacco, e adesso qui, ancora una volta l'occasione, di attaccare Nicolà Latifi, ruota ruota, ruota ruota, stavolta ha nominato sorpasso illecito, vediamo un po' se porto a termine il sorpasso, sì, perfetto, e devo sperare di, di non farmi superare, adesso qui, lungo il rettilineo, 8 decimi, ha già perso 8 decimi, non, cosa fa? L'ho superato da una curva, ed è già dietro di 9 decimi, cioè perde un secondo a curva, perde, tipo, Latifi, comunque sia attenzione, si avvicina chiaramente il rettilineo, ma non abbastanza, ma insomma non abbastanza, ma mi hai guadagnato 8 decimi in rettilineo, io perdo 8 decimi in rettilineo, incredibile, e poi evidentemente in curva ne guadagno di più, perché io come passo sono più veloce, però attenzione che Latifi torna all'attacco, in staccata, no, in staccata, direi proprio che non mi passi, e adesso c'è il terzo settore, tutto guidato, quindi in questo terzo settore, penso proprio di staccarlo definitivamente, a Nicola Latifi, e penso proprio che quando arriveremo, al rettilineo del D-Res, del prossimo giro, non sia assolutamente abbastanza vicino, ma intanto, è già arrivato a quasi 18 secondi, il vantaggio di, ha 18 secondi proprio, Netti, il vantaggio di Callum Eiloth, che sta, 1.51.4 sta facendo, vabbè, alla fine come best lap, è a un secondo meglio del mio, però io ho fatto quel 52.4, adesso sto facendo 53 qualcosa, era fuori un tempo, un 53 adesso mi viene fuori, ecco qua infatti 53.1, per ora sono da solo, vediamo qual è il mio vero ritmo, Driver ahead, che cosa, che cosa, che cosa ha detto, io gli ho detto pilota davanti in inglese, pensavo che dove, pensavo che dovessi parlare in inglese, lui mi ha risposto che ti montiamo gomme da bagnato al prossimo pit, mi scusi signore ingegnere, c'è qualche barri, c'è una barriera linguistica qui, Driver ahead, monta gomme da bagnato, ma che, monta gomme da bagnato, ma come, incredibile, io dico, scusate, Driver ahead, vuol dire, è pilota davanti in inglese, e lui dice, ok ti metto gomme da bagnato, ma questo non sarà neanche inglese, questo ingegnere, so che, che lingua, se qualcuno di voi sa, se Driver ahead, in qualche lingua, del mondo, vuol dire montami il gomme da bagnato, per favore me lo dica, se ti parlo in italiano, pilota davanti, ah accetta l'italiano, pensavo che, accetta anche l'italiano, ma io voglio sapere quanto gira, 51,3 gira, io 52,7, cioè, un secondo e mezzo al giro mi prendo, incredibile sta cosa, mi prendo un secondo e mezzo al giro, da Callum Iloth, e comunque sto, sto comunque girando più forte, rispetto a tutti i piloti dietro, quindi io non sono lento, io non sono lento, perché sono il secondo pilota più veloce in pista, e Iloth che, non so che macchina gli hanno dato, no comunque sta cosa dell'interno, l'ingegnere è spettacolare, questa cosa dell'ingegnere è spettacolare, e pensavo che dovessi parlare, pensavo, l'ingegnere inglese, penso che, pensavo che di dovergli parlare in inglese, gli dico, driver ahead, pilota davanti, e lui mi dice, ok ti monto le gomme da bagnato, non so che, non ho parole, non ho parole, semplicemente, non ho parole, inutile, inutile, inutile parlarne, inutile, non ci sono parole, adesso vabbè, almeno c'è questo ingegnere qua, Jeff, c'è Alex, che è idiota, chi di voi ha seguito la mia carriera sul fenomeno numero 19, sa, Alex, quante che ne ha combinate, fra le tante che mi ha combinato, ricordo, in Germania, non mi ricordo, stagione 4, sì, stagione 4, avevo forato una gomma sul detrito, chiedo la sosta ai box, perché c'ho una gomma forata, e l'ingegnere mi dice, i box sono pieni, sta in pista a un altro giro, non voleva farmi entrare i box, con la gomma forata, questa è una delle tab-up, la cosa, la classica, una volta su due, quando fai il pit stop, che devi ripartire, ti dice non dare gas, non so, se non do gas, come faccio a ripartire dal pit stop, scusa, cioè, non lo so, e pensavo che questo qui, questo ingegnere qui inglese, fosse più competente, vabbè, adesso Alex è morto, mi si è cambiato l'ingegnere da solo, o il mitico Jeff, credo che si chiami quell'inglese, almeno lui sarà capace, e invece no, invece gli dico una cosa, e mi dice, ok, ti monto le gomme da bagnato, a Abu Dhabi, qua, dove c'è, nel deserto, io non ho parole, spettacolare, è spettacolare, ogni volta, c'è qui il divertimento, non è tanto guidare, in sé per sé, ma sono tutte le cose strane, che accadono proprio nel, nel mentre, che sono le cose che fanno veramente, divertire, più che, la guida in sé per sé, e comunque penso che la gara, non abbia più niente da dire, se devo essere sincero, perché, Eiloth lì davanti, sta girando a un ritmo, incredibile, imprendibile, e, i piloti dietro, sono più lenti, quindi io sto guadagnando, sono agevolmente in seconda posizione, penso proprio che, che questa gara, salvo safety car, o robe proprio clamorose, non abbia più, assolutamente niente da dire, ormai, proviamo a chiedere, informazioni sul pilota dietro, in inglese, all'ingegnere, vediamo un po' cosa si inventa, driver behind, ok, ok, se dice driver behind, cioè pilota dietro, ti dice le, le previsioni del tempo, molto bene, ma vai proviamo, proviamone tutte, dai, box this lap, ok, questa non ha capito, box in questo giro, questa non ha capito, perché le altre, le altre aveva capito benissimo, però questa qui, in particolare, non l'ha capita, le altre si, le altre invece, infatti, l'avevano capito perfettamente, per carità, driver behind, è convinto, è convinto, è convinto proprio, che driver behind, voglia dire, previsioni del tempo, è convinto, non era un errore, oh, però adesso mi ha detto, il pilota dietro, che mi sta guadagnando, forse coincidenza, ma forse io c'ho una spiegazione, forse ai tempi, di Iloth, questo secondo me, non può essere, Callum Iloth, questo è, è, è un sim driver, professionista, questo qui, che, io sto correndo online, con un sim driver, professionista, che ha scelto Callum Iloth, non c'è, non c'è altra spiegazione, questo sarà, Amos Laurito sarà, che sta correndo, Amos Laurailot, sicuramente lui, è sicuramente, Amos Laurailot, è proprio lui, perché la IA 110, sono i piloti, che sono dietro di me, i piloti dietro di me, sono i piloti della IA, non ci può essere, così tanta differenza, tra un pilota e l'altro, a parità di macchina, a parità chiaramente, c'è il livello di difficoltà, è lo stesso per tutti i piloti, non è che, che scegli, ah, Correa lo voglio a livello 110, Ayrodot lo voglio a livello 82, cioè, dovrebbe essere, cioè, non esiste un motivo logico, per una cosa, del genere, e Correa, occhio che mi ha preso, occhio che mi ha proprio preso, Amos Laurail Correa, è a 4 decimi, adesso di meno, sicuramente, è a 2 decimi, mi ha proprio preso, e vuole cercare una doppietta, per il junior team della Sauber, proprio all'ultimo giro, con Ayrodot, che ha tagliato il traguardo, già adesso, incredibile, incredibile, comunque il junior team della Sauber, che è già matematicamente, campione, nel campionato a squadre, e vuole evidentemente, chiudere, con una doppietta, doppietta che avremmo potuto, ottenere noi della prema, se Mick Schumacher, in gara 1, fosse, arrivato ottavo, anziché arrivare, dodicesimo, lì tredicesimo, a un certo punto, aveva anche superato Ayrodot, era salito in ottava posizione, a pochi giri dalla fine, e poi è crollato, negli ultimi giri, è completamente crollato, se no, eh, se no forse sarebbe stata una gara diversa, perché, se Schumacher, avesse, tenuto dietro Ayrodot, fosse arrivato lui ottavo, sarebbe partito Mick, dalla pole position, Ayrod sarebbe partito nono, e poi vabbè, che aveva sto passo incredibile, qua tutto quanto, però intanto doveva, superare otto piloti, doveva superare, otto piloti, e io intanto che superava, gli altri piloti, magari me ne scappavo via, insomma, sarebbe stata una gara un po', un po' diversa, però attenzione, perché questo, è l'ultimo giro, l'ultimo giro del campionato, di Formula 2, con Correa, che, mi ha raggiunto, io, come tempi sul giro, sono sempre uguale, sono i piloti, sono gli altri, che decidono, di svegliarsi, di aumentare il loro passo, o diminuirlo, a seconda di come vogliono, attenzione, perché, è vicino, Correa è vicino, provo l'attacco qui in staccata, resisto qui, e provo a sporcare, anche la traiettoria, adesso, nell'ingresso qui, al secondo rettilineo, però purtroppo, no, 5 decimi, 5 decimi, mi attaccherà, mi attaccherà, mi attaccherà di sicuro, ma, forse posso fare come nel primo rettilineo, posso resistere in staccata, vediamo qua, Correa mi attacca all'esterno, ho la traiettoria favorevole, se non sbaglio, non mi supera, infatti è così, e in questo momento, più o meno dovrebbe tagliare, eccolo lì, Ayloth arriva già al traguardo adesso, 35 secondi di vantaggio, io farei un controllino tecnico, sulla sua macchina, perché, o su di lui, perché, non ci sono tante spiegazioni, a un trionfo, del genere, ed eccoci qua, ultima curva, ultima curva, di questo campionato di Formula 2, che vado a concludere, comunque, con un'ottima gara, secondo, primo fra gli umani, hai fatto davvero un buon lavoro quest'anno, dai, sì, contento l'ingegnere, che è sbuccato così da noi, si pilota nel giorno, però è Aytken, non Ayloth, Aytken, ma nella maniera più assoluta, vediamo un po', se si toglie il casco, se è davvero Callum Ayloth, o se è Amos Laura Ayloth, sim driver, per chi non lo conoscesse, di livello mondiale, proprio qui su F1, c'è addirittura la sua faccia, che a volte appare, fra i commissari di gara, i meccanici, perché è partecipato a un, campionato di sports, proprio qui su F1, e invece è proprio Ayloth, è proprio Ayloth, non c'è trucco, non c'inganno, signore e signori, è proprio lui, è proprio lui, a meno che non si sia scambiato, con Amos Laurito, sul retropodio, come è accaduto, nel film, in quel film del 2002, che riguarda la 24 ore di Le Mans, quello lì, Michel Vaillant, passiamo al pilota del giorno, Davide Valsecchi, chi si è distinto dalla macchina? Direi, Callum Ayloth, ah ecco, Valsecchi però dice Callum Ayloth, ecco, Valsecchi invece, non è stato d'accordo, con la nomina, di pilota del giorno, data a Heitken, che poi fra l'altro, Heitken dove cavolo è finito, scusate, e quindicesimo è finito Heitken, come potrà mai essere lui, pilota del giorno? Comunque sia, Callum Ayloth, o chiunque abbia corso al suo posto, ha ottenuto una vittoria, proprio dominante, ha vinto con 36 secondi, mezzo di vantaggio, ma neanche io, in Spagna, quando in gara 1, correvo ancora con la difficoltà 102, perché ancora non sapevo, che la ieri è scarsa, ma neanche io lì, avevo ottenuto, una vittoria con un distacco simile, mi ha dato più di un secondo e mezzo, praticamente, solamente sul giro record, e io come giro record, ho fatto un giro abbastanza pulito, non è che, quindi, io non so veramente, dove e come avrei potuto fare, un secondo e mezzo meglio, ecco, anche perché poi vedete, il mio best trap 52, 1, gli altri 51, 7, 52, 1, 51, vabbè, ci sono stati parecchi 51, quindi effettivamente sì, mio best trap è un po' altino, però io comunque sono finito, agilmente in seconda posizione, con Correa, che mi ha preso solo negli ultimi giri, e poi da Uber in poi, tutti abbastanza staccati, da me, quindi io non è che ho fatto, io non ho fatto da tappo nessuno, nella maniera più assoluta, anche perché, con un setup del genere, fare da tappo è impossibile, se c'è un pilota più veloce, il primo rettilineo mi supera, quindi, io a tutti gli effetti, comunque sono stato il secondo pilota più veloce in pista, il problema è che, Ayloth, non so, non so cosa, cosa gli è successo, quel ragazzo, e non so come cavolo l'abbia fatto, a non vincere il mondiale, Ayloth, visto che, ha questa superiorità qui, che non aveva mai mostrato prima, comunque sia, dietro, se io praticamente guasto, la doppietta, del junior team, della Sauber, perché, finisco in mezzo, proprio ai due piloti, di quel team, Ayloth primo, e Correa terzo, con me secondo, quarta posizione per lui, dell'etra, comunque un'ottima gara, la sua quinta posizione per Hubert, il campione del mondo, Nobuar Mazzucita, conclude la sua stagione con un sesto posto, Jordan King, un po' opaco, finisce settimo, Luca Ghiotto, ottavo, chiude un'ottottene, Devry e Latifi, con Latifi addirittura che è finito decimo alla fine, l'ottava con me, per il secondo posto, a inizio gara, è riuscito a perdere così tante posizioni, a finire decimo, incredibile, veramente, con poi Boccolacci, undicesimo, una grande stagione la sua, partita un po' in sordina, poi nella fase centrale della stagione, ha ottenuto una sfilza di risultati utili, impressionante, con la perla poi della vittoria di Monza in gara 2, poi però si è un po' dissolto in queste ultimissime gare stagionali, fino a poi finire fuori dai punti, qua adesso in gara 2, Mick Schumacher solamente dodicesimo, non è riuscito a recuperare posizioni, Alessi è un altro che è stato in lotta per il titolo, fino a 4-5 gare fa, ovvero fino a un paio di round fa, però poi adesso nel finale di stagione ha mollato completamente, ha ottenuto solamente, ancora una volta, zero punti anche qua in gara 2, poi Zou, quattro dicesimo, il pilota del giorno, Aitken, che rimonta da ventesimo a quindicesimo, la Tatiana Calderon, sedicesima, Seci Camera, diciassettesimo, poi Mazepin, il leggendario Mahaver Ragunatana, che finisce ultimo, in lotta comunque con Mazepin, perché insomma, è ultimo ma neanche staccato, quindi qui, cioè, Ragunatana ha fatto una stagione veramente incredibile, condita poi, impreziosita dalla vittoria di Monaco, cioè ragazzi, questo, questo ragazzo ha vinto a Monaco, parliamone, Mahaver Ragunatana, cioè rispetto, rispetto per lui, rispetto, merita solo rispetto, e unico ritiro, Boshung, per guasto tecnico, lui che era l'unico pilota, a non avere punti in campionato, è rimasto, visto che, l'unico pilota non avere punti in campionato, visto che chiaramente, si è ritirato, classifica di campionato, questa è la classifica finale, con Nobuaro Mazzucita, che sappiamo, come già sapevamo, vince il titolo, ma, invece ci sono rimasto veramente malissimo, adesso, nel notare che in realtà, in seconda posizione, c'era King, e mi ero completamente dimenticato di lui, pensavo che fosse indietro, pensavo che fosse più indietro, in classifica rispetto a me, se devo essere sincero, invece era davanti, così davanti, che addirittura, nonostante la mia seconda posizione, e la vittoria di Aylott, il secondo posto, se l'è preso lui, se l'è preso lui, che in questa gara, è arrivato solamente settimo, e fatto solamente due punti, quindi, non me l'aspettavo, se devo essere sincero, e quindi alla fine, sono arrivato addirittura, quarto in campionato, neanche, neanche terzo, come pensavo, quindi un'altra delusione, solamente, 171 punti conquistati, con poi Bocolacci quinto, Correa sesto, Juber setti, Malesia alla fine ha mollato completamente, nel finale di campionato, solamente ottavo, top ten, chi usa da Giotto Eitken, con Zou undicesimo, Mick Schumacher, solamente dodicesimo, in campionato, ma ci sta, perché comunque, Mick Schumacher, cioè questo è il 2019, non è il 2020, quindi Mick Schumacher nel 2019, in effetti, non è che abbia brillato, più di tanto, mi sa che, se non ricordo male, era finito anche più indietro, rispetto a come è finito qui, mi si è fatto anche ben meno, di 87 punti, nel vero campionato, Formula 2 2019, quello che mi ricordo, con certezza, è che Mick Schumacher, nella vera stagione 2019, è finito dietro, in campionato, ben dietro anche a Hubert, cioè Hubert, come sapete, purtroppo è morto, nella gara 1 del Belgio, e nonostante questo, Hubert è comunque finito da morto, è finito comunque davanti, in campionato Mick Schumacher, quindi effettivamente, Mick Schumacher, nella prima stagione, non è che era tutto, sto gran fenomeno, come invece poi è apparso, nel 2020, quindi ci sta, che Mick Schumacher, qui nel gioco, sia scarso, e ci sta che abbia ottenuto, così pochi punti, Manzipin poi 13esimo, la Tifi 14esimo, Dele tra 15esimo, che quello che non ci sta, è che è assolutamente vergognoso, e che il vincitore, della vera Formula 2 2019, qui nel gioco, sia finito 16esimo, in campionato, con 36 punti, e questo è una cosa, che non è inconcepibile, è proprio inconcepibile, cioè come se tu, nel gioco, nella Formula 1, metti Hamilton, che finisce 16esimo, in campionato, come se io adesso, inizio la carriera, in Formula 1, e Hamilton mi finisce 16esimo, in campionato, la prima stagione, cioè, la proporzione è questa, e non capisco, come sia possibile, anche perché poi, vedendo le statistiche, di De Vries, proprio i punteggi, pilota, che ci sono, da quest'anno, De Vries è, livello 66, o 65, in teoria, è il pilota più forte, in griglia, eppure, quindi, non so, se o i rating, dei piloti, sono fatti a caso, sono dei numeri, messi lì a caso, che però, non hanno nessun risvolto, proprio nella, nella vera competitività, dei piloti, perché, insomma, se De Vries è il pilota, più forte, il rating alla mano, il pilota più forte, del campionato, e si corre tutti, con le stesse macchine, come fa a finire, il 16esimo, in campionato, cioè, qui si mettono, in dubbio, le fondamenta, del, su cui si basa, il gioco, però il rating, dei piloti, era tanto sbandirata, novità, di F1, oltre alla modalità, My Team, ovviamente, e oltre alla modalità, My Team, l'altra novità, grossa, era il rating, dei piloti, e tutto quanto, ma se poi, in un campionato, a parità di macchine, il pilota, col punteggio, abilità più alto, finisce sedicesimo, in classifica, e qui si mette, proprio a, in dubbio, tutto, tutto, su sto sistema, del rating, e solo fumo, negli occhi, a questo punto, non lo so, non lo so, lo scopriremo, in formula 1, lo scopriremo, in formula 1, vedremo un po', se Hamilton, finirà sedicesimo, in stagione 1, comunque sia, classifica di campionato, pilota, chiuso da, da secci camera, dal leggendario, Ragunathan, che lui ha il rating, invece, nettamente più basso, ma questo, non gli ha impedito, di vincere a Monaco, cioè, traete voi le conclusioni, fra il pilota, con il rating più alto, De Vries, il pilota, con il rating più basso, Ragunathan, ci sono, ci ballano 13 punti, in tutta una stagione, ditemi voi, ditemi voi, se, è una cosa normale, questa, campionato piloti, chiuso dalla Tatiana Calderon, che finisce, diciannovesimo con otto punti, e poi da Ralph Boshung, che è l'unico, a non avere ottenuto punti, classifica a squadre, il junior team della Sauber, aveva già matematicamente, vinto il campionato, e ha guadagnato ancora, dei punti, con il primo e terzo posto, tenuto in questa gara, quindi conclude il campionato, costruttore, squadre, non costruttore, perché il costruttore, macchina uguale, il costruttore, era dall'ara, il costruttore, il campionato a squadre, quindi lo vince, il team junior della Sauber, poi il team Carlin, quello di Matsushita, delle tre che finisce il secondo, noi della prima finiamo terzi, a dieci punti dalla Carlin, mannaggia Mick Schumacher, che se fosse stato lì, insieme a me, a lottare per le prime posizioni, in questa gara, dieci punticini in più, li poteva fare, perché finiva magari davanti, delle tre Matsushita, magari sette, otto punti in più, li faceva lui, altri due, tre gli toglieva gli altri, insomma, ci poteva stare, il secondo posto in campionato, nella maniera più assoluta, comunque abbiamo superato la Campus, in questa gara abbiamo comunque, superato la Campus, Campus di Aitken e Boccolacci, quindi ci siamo comunque portati in terza posizione, la M&P Motorsport, il team di King e del leggendario Ragunatano, finisce in quinta posizione, la Uni Virtuosi Sester, BWT Arden settima, Trident ottava, avendo potuto contare solamente sui punti di L.C., l'Art Grand Prix, la squadra di De Vries, nona, e la Dams decima, fa specie notare come la squadra che sia arrivata ultima in campionato, abbia comunque ottenuto 96 punti, è un po' strana sta cosa, però tant'è, è successo, e quindi è così, ecco. Classifica accumulativa dei punteggi del weekend, in questo weekend di gara King è stato il pilota che ha ottenuto più punti, ne ha fatti 27, U-Bair ne ha fatti 26, Eiloth ne ha fatti 21, perché era finito indietro, comunque era finito solamente l'ottavo in gara 1, quindi per quello non è stato il pilota che ha ottenuto più punti, io ne ho ottenuti 18, sono stato il sesto pilota ad aver ottenuto più punti in assoluto, e poi via via tutti gli altri, con Mick Schumacher che è il mio compagno di squadra, da questo weekend non ha ottenuto nessun punto. Molto bene quindi dire proprio che per questa stagione qui in Formula 2 è davvero tutto, intanto mentre cambiamo lì, per un attimo sono apparse le bandiere argentine, per un frame, comunque per questa stagione qui di Formula 2 è davvero tutto, dire proprio che ci vediamo, ci vediamo per la Formula 1, per il debutto in Formula 1 nella stagione prossima.